Ciao ragazzi, oggi parliamo di un nuovo prodotto della 3M, che è il suo videoprolettore M-Pro 110. Una prete veramente piccolo, compatto, come vedete, questo videoprolettore, in suo ingresso video, l'ha messa a fuoco, piccolissimo. Si accende col tocco di un dito, se non ho il programmare, come vedete, eccolo, e parte l'immagine immediatamente, che vedete, ha le mie spalle, anzi su di me, 3M sulla faccia. È molto luminoso, molto potente, è a led, funziona fino a 50 pollici, dato in garanzia della casa, ma noi l'abbiamo provato al buio totale, devo dire che arriva a dimensioni ragguardevoli, nonostante 640x480, però l'ingresso VGA aiuta molto a vedere le immagini con una discreta qualità. semplicissimo da usare, ha un solo unico pulsante per l'accensione, una spia di funzionamento, qui c'è lo spinotto per collegarlo, dopodiché c'è uno spinotto video dove si può collegare l'appstation, direttamente un ingresso video VGA, attenzione, per cui la qualità è per quello che è stata guardata, alimentazione. Le batterie sono al suo interno, l'illuminazione è a led, quindi molto potente, devo dire, adesso non so se si legge, comunque è un oggetto che è da mantenere nelle cose da comprare quando si fanno un sacco di presentazioni e di solito posso garantire, ecco non ha assolutamente ventole, quindi silenziosissimo, perché non ha bisogno di ventole, funziona a led, quindi non ha nessun bisogno di, adesso qui c'è la messa a fuoco, l'unica cosa che c'è sul frontale, possiamo vedere sulla mia mano, ok ragazzi, anche oggi vi salutiamo, qualsiasi sito che vi avete bisogno, una mail e noi vi rispondiamo. Ciao, vado che comincia a piovere, come vedete, è un guai, acqua, Milano, ciao. 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 Ciao.